IAS Marina è un impianto permanente sul livello del mare. La gara inizia a fine pomeriggio e termina la sera con l'illuminazione artificiale rendendo questo gran premio unico e suggestivo. In curva 8 il taglio di velocità da 340 all'ora a 80 consente all'MGUK di rigenerare la batteria con 150 kJ in meno di 2 secondi immediatamente utilizzati sotto forma di coppia elettrica a supporto del motore termico. La propulsione elettrica migliora la prestazione di 2,3 secondi al giro e 16 km orari di velocità massima.